C'erano anche ragazzini di 14 anni tra gli acquirenti di cocaina riforniti dagli spacciatori che si erano divisi le piazze di San Pietro Vernotico, Cellino, Sandonaci e Ostuni. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Brindisi che all'alba di martedì 26 aprile hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare di cui 6 in carcere, 2 ai domiciliari e 2 all'obbligo di dimora. Per tutti l'accusa è di detenzione a fini di spaccio di droga. A 4 di loro è contestato anche un tentato furto in abitazione. Dei 18 tossicomani identificati come clienti abituali dei pusher, ben 6 erano minorenni. Forse anche per questo gli spacciatori avevano l'abitudine di nascondere la droga in confezioni di caramelle mentos o nei classici ovetti di plastica gialla, interrati poi nei pressi di segnali stradali o di canali di scolo. Qualche volta i ragazzini venivano persino truffati dai pusher che cedevano loro aspirine in polvere invece di cocaina. Abbiamo constatato in quest'ultimo periodo, purtroppo complice anche il periodo di chiusura dovuto alla pandemia, che l'età media si è abbassata moltissimo, sia dei consumatori che anche di coloro i quali cedono, poi partecipano allo spaccio della sostanza stupevacente. I minorenni, in questo caso coinvolti nell'attività non come indagati ma come assuntori identificati, avevano dai 14 anche 18 anni. Per avvicinare i più giovani all'uso della droga pesante, le dosi venivano confezionate anche in quantità modica e con prezzi dunque bassi, un ventino 0,2 grammi per 20 euro, un trentino 0,3 grammi e così via. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico sono partite da un servizio straordinario di controllo compiuto dai militari nel giugno 2020 presso la zona 167 alla periferia del paese e nel corso della quale venne scoperta una gubbia in cui c'erano mezzi rubati, un fucile a canne mozze, due pistole, 146 cartucce e oltre 200 grammi di droga fra cocaina e marijuana. L'inchiesta, compiuta con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, è sfociata nelle ordinanze di custodia cautelare richieste dal PM Pierpaolo Montinaro e firmate dal GIP Vilma Gilli. Gli arresti sono stati effettuati con il supporto del nucleo cinofilo dei carabinieri di Modugno.